Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Gesti d'amore. Spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Gesti d'amore perché dobbiamo essere gentili con la gente quando il mondo è triste e ha bisogno di amore. E noi sempre saremo disponibili a dare il meglio per aiutare qualcuno magari a combattere le sue battaglie e per essere vicini. Dobbiamo essere la luce per chi vive al buio continuamente e non sa trovare uno spiraglio di luce che gli illumini gli occhi. Gesti d'amore che daranno i giusti risultati e che gli uomini apprezzeranno e si ricorderanno di chi li ha donati. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Gesti d'amore. Siate gentili con la gente. Il mondo è triste, ha bisogno di amore sempre perché in atto ci sono mille battaglie. Siate la luce per chi vive al buio continuamente. Per chi piange e ha occhi tristi, siate una carezza frequente. Gesti d'amore che daranno i giusti e saggi risultati che gli uomini apprezzeranno da ampi e diversi lati. Gesti d'amore e di orgoglio ricchi di forte carità degni di un nuovo mondo che a tutti più gioia donerà. Grazie e spero la condividerete. Arrivederci.